Come si misura la temperatura esatta dell'aria? Quindi no auto e no insegne della farmacia? Giusto, perché non rispettano le regole fondamentali per misurare correttamente la temperatura dell'aria. Quali sono queste regole? Innanzitutto il termomere mi ha messo all'ombra, sono intendi sul davanzale di casa a misura 50 gradi, la temperatura del bulbo. Quindi all'ombra, poi a 5 metri di distanza almeno da ostacoli, soprattutto dagli edifici e dalle mura esterne e domestiche. Perché intrappolano il calore? Certo, se passate a mezzo metro dal muro in un pomeriggio sentite che il raggio ha calore e ha circa 2 metri di altezza. Ok, chiaro? Quindi non venite a dirmi che avete misurato 50 gradi nell'auto perché vi sgridiamo, vero? Ciao, grazie. Ciao, ciao.